Questa vittoria sapevamo che giocando al nostro massimo potevamo portarla a casa e così è stato. Siamo partiti molto concentrati, sapevamo che dovevamo su ogni palla dare il massimo e dovevamo giocare sempre di squadra in ogni momento e pensare sempre alla palla successiva. Siamo stati bravi soprattutto in quel secondo set quando loro sono andati avanti a qualche punto e noi siamo rimasti lì con la testa bassa e punto dopo punto ci siamo portati avanti. Quindi sono molto contento, domani c'è un'altra battaglia perché l'Argentina è una squadra forte e quindi già usciti da questa stanza dobbiamo pensare sul che è domani. Grazie. 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 Grazie.